Ciao ta, purtroppo oggi non potrò esserci perché come sai da otto giorni è nata la piccola Ludovica che tu hai visto, sei venuta a trovare, mi hai fatto un bellissimo regalo e sai anche quanto ci tenevo ad esserci oggi per la tua ultima gara, volevo esserti vicina in questo momento però tra poppate, cambi, pannolini, cac, ancora non sono molto organizzata però sicuramente ci sarà un'altra occasione per poterci ritrovare insieme ad una gara, magari al Grand Prix di Bolzano intanto però volevo farti un grande in bocca al lupo, Torino sarà sicuramente contento di accoglierti e di averti lì e quindi faccio un caro saluto anche a tutti i tifosi e ti mando un forte abbraccio e un bacio in bocca al lupo!